e quest'anno mi occuperò di insegnare progetto di macchina, voi siete del corso laurea magistrale primo anno meccanici, c'è ancora qualcuno del secondo anno ragazzi? progetto di macchine, partiamo da una breve presentazione di quello che sarà il corso, dei contenuti e di quello di cui ci occuperemo in questo semestre fondamentalmente l'obiettivo è quello di approfondire la conoscenza dei processi che siano appunto nelle macchine a fluido in particolare tra tutti gli svariati tipi di macchine a fluido che ben ricorderete, che avete già visto nel corso di macchina latriannale noi ci occuperemo delle turbomacchine come un corso appunto che si intetola progetto di macchine, si chiama progetto di macchine la finalità sarà da un lato quella di approfondire e capire meglio i processi che regolano il funzionamento delle turbomacchine ma anche dare delle indicazioni utili per il progetto delle stesse quindi vedrete durante il corso che noi in realtà imposteremo e porteremo a termine il progetto preliminare di tutta una serie di turbomacchine e quindi la parte progettuale esecutiva e dal nostro punto di vista radicattica esercitativa sarà una parte molto importante durante questo corso testi di riferimento purtroppo non abbiamo un vero e proprio testo di riferimento perché semplicemente perché in Italia non c'è l'universo delle macchine a fluido e delle turbomacchine è un universo enorme quindi ci sono libri che studiano in dettaglio le turbine idrauliche piuttosto che le turbine a gas, piuttosto che le pompe manca un libro in comprensivo ci sono anche però in realtà sono delle enciclopedie in cui bene o male vi perdereste quindi trovate sulla guida e io ve l'ho riportato qui tutta una serie di libri che io ritengo di riferimento fondamentalmente però questi libri li trovate disponibili in biblioteca io non vi dico di acquistarli usate le slide delle lezioni come un filo rosso ai vostri appunti che vi guideranno appunto durante lo svolgimento di questo esame dopodiché magari io vi segnerò segnalerò di volta in volta qual è il testo più utile per approfondire l'argomento che stiamo trattando in realtà un testo ci sarebbe che bene o male rispecchia quella che è l'impostazione di questo corso però è in inglese è Dixon, Food Mechanics and Thermodynamics of Durnal Machinery chi di voi volesse prenderlo è un ottimo testo però appunto non è in lingua italiana e quindi può esserci questo problema questo problema ampio d'altro canto se cominciate a studiare su un testo in lingua inglese questo non può altro che aiutarvi durante quello che sia il proseguimento dei vostri studi sia quello che poi sarà lo sviluppo della vostra attività professionale quindi magari in questo può essere una difficoltà in più adesso ma può essere un aiuto per il domani contenuti di cosa ci occuperemo in questo corso? 1. Turbomacchine 2. Progetto di turbomacchine il corso è strutturato in questo modo ci saranno una serie di lezioni iniziali che bene o male ci verranno a compagnia per le prime due o tre settimane in cui rimetteremo sul piatto tutta una serie di argomenti che in realtà avete già trattati noi li richiameremo definiremo una nostra nomenclatura per studiare e approfondire questi fenomeni in realtà poi faremo anche degli approfondimenti su cose che non avete trattato dei corsi dell'articandale quindi c'è una parte di fondamenti che per quanto riguarda ciò che dobbiamo fare nel corso che ho chiamato introduzione in cui richiameremo la termodinamica applicata alle macchine e approfondiremo poi degli aspetti specifici che magari non avete trattato nel corso dell'articandale che servono però a noi per caratterizzare appunto la termofluidodinamica dal punto di vista termofluidodinamico i fenomeni che riguardano le turbomaglie poi ci sarà una parte di richiami di fondamenti relativi invece alla fluidodinamica delle macchine in particolare ci occuperemo della gas dinamica in cui richiameremo il problema degli efflussi sonici, supersonici o subsonici all'interno dei condotti che in parte avete già trattato come il professore Arpino nel corso di termofluidodinamica e introdurremo però anche la problematica legata alle onde tutto che non credo che invece abbiate trattato sempre nell'ambito della fluidodinamica delle macchine tratteremo anche il comportamento dei profili alari ricordate dal corso di macchine che una turbina, una pompa siale eccetera sono caratterizzati da pale che hanno forma di profili aerodinamici bene, noi studieremo un po' meglio che significa avere un profilo alare, un profilo aerodinamico immerso in una corrente come viene lo scambio di azioni tra il profilo e la corrente e come possiamo utilizzare queste nozioni appunto al fine di progettarla la macchina o di farla funzionare al meglio possibile faremo poi un escurso su quelle che sono le perdite che caratterizzano il funzionamento un po' di tutte le turbomacchine perdite tipo fiscoso, perdite dovute alla sonicità del flusso, problemi di cavitazione e così via e introdurremo tutta una serie di rendimenti che dovremo utilizzare poi nel progetto delle macchine stesse chiuderemo questa prima parte di fondamenti con la teoria della similitudine ora io credo che voi già abbiate affrontato in altri corsi la teoria della similitudine, giusto? magari la trasmissione del calore spesso si utilizzano in gruppi adimensionali e quindi si richiama la teoria della similitudine nel teorema di Buckingham utilizzeremo anche noi qui in questo corso la teoria della similitudine introdurremo tutta una serie di gruppi adimensionali che servono a caratterizzare il funzionamento delle macchine ma soprattutto a noi serviranno, come vedrete, per impostare il progetto preliminare di una turbomacchina quello che otterremo dalla teoria della similitudine ci servirà per definire una serie di parametri adimensionali che vedremo come, in base alle specifiche di progetto, potremo calcolare e questi ci indirizzeranno nella scelta della turbomacchina opportuna per far fronte a determinate specifiche progettuali e anche nella scelta della sua dimensione di massi quindi, fondamentalmente, arrivati a questo punto del corso noi potremo già rispondere a quelle che sono normalmente le richieste di uno studio di fattibilità dove appunto per risolvere un problema progettuale dobbiamo scegliere perché dobbiamo realizzare un impianto idroelettrico quindi dobbiamo valutarne la fattibilità che significa anche andare a valutare che tipo di turbina idraulica è più corretto scegliere per quell'applicazione noi con la teoria della similitudine e con gli sviluppi della teoria della similitudine saremo già in grado di rispondere a questa domanda cioè valutare che tipo di turbina idroelettrica tra gli svariati tipi che ricorderevi al corso di macchine esistono e sono disponibili sul mercato e quanto deve essere grande quella turbina dopodiché entreremo nel vivo andando ad affrontare nella maniera specifica una serie di categorie di macchine quindi pompe, compressori centrifughi, compressori assiali, turbine termiche e turbine idrauliche per ognuna di queste categorie di macchina andremo a caratterizzare quelle che sono le peculiarità di funzionamento richiameremo quelle che sono le modalità operative e quindi affronteremo il problema delle curve caratteristiche dopodiché andremo a effettuare appunto il progetto di massima di una macchina specifica quindi tratteremo le pompe, chiuderemo il discorso con il progetto preliminare di una pompa centrifuga tratteremo i compressori assiali, chiuderemo il discorso con il progetto preliminare di un compressore assiale e così avvia ricendo chiuderemo il corso con un'esercitazione in cui andremo a progettare un turbocompressore per un'applicazione invece a pompe estica fondamentalmente parte teorica e parte pratica esercitativa hanno quasi lo stesso peso ognuna di queste esercitazioni in media durerà dalle 2 alle 3 lezioni le esercitazioni saranno svolte da me alla lavagna e voi le seguirete in aula prendendo appunti faremo tutto carta e penna inizialmente nei primi anni che ho preso il corso io ho introdotto parecchi strumenti software per la soluzione di tali problematiche via via li ho tolti tutti quanti di mezzo perchè? perchè spesso nell'utilizzo di codici per la progettazione ce ne sono tanti ci sono svariati codici che si basano su modelli empirici, su modelli semi empirici su modelli molto elaborati tipo calcoli 3D software tipo il Fluent, il Console che forse conoscete si possono utilizzare e vanno utilizzati per l'affinamento del progetto però spesso poi nell'utilizzo di tali software ho visto che gli studenti perdevano quella che era la fisica del fenomeno cioè dimenticavano i principi fondamentali che ci servono appunto in realtà a raggiungere un progetto preliminare noi invece in questo corso faremo i progetti preliminari laddove in realtà non si ha a disposizione nessun vero ausilio dal punto di vista dei codici, dei software e quant'altro codici che servono appunto fondamentalmente a rifinire il progetto noi invece faremo l'impostazione di massi che ci porterà alla scelta di un numero di pale, alle dimensioni della macchina, al diametro, interno, interno, altezza delle pale e così modalità d'esame prova scritta e prova orale visto che il corso è progettuale e la parte scritta è fondamentale durante la prova scritta fondamentalmente rifarete dei pezzi di esercitazione quindi potrebbe capitare un pezzetto di progetto di un compressore centrismo piuttosto che di una corbina e così via potrete utilizzare qualsiasi tipo di testo appunto quello che volete siete liberi siamo al quarto anno di una laurea magistrale in ingegneria meccanica è giusto che un ingegnere durante la sua attività professionale ti utilizzi qualsiasi strumento, libro, supporto che sia utile appunto alla fase progettuale ovviamente non potete farvi aiutare non potete chiamarvi a internet l'amico che vi risolva l'esercizio per il resto all'esame vi porterete tutto il paecco di slide che io vi rilascerò durante il corso perché lì ci sarà una serie di tabelle e correlazioni ed altro che appunto dovrete usare in realtà durante lo sporgimento dell'esame la prova scritta a un voto e vi da l'accesso se lo superate alla prova orale io normalmente ammetto all'orale dai quattordici trentesimi inizio nella prova orale valuteremo la padronanza dei metodi progettuali e la comprensione dei fenomeni fisici appunto che regolano il funzionamento dell'oggetto del nostro studio alla fine il voto finale sarà una media tra scritto orale anche se in genere io faccio pesare sempre un po' di più l'orale quindi anche per chi non prende un voto altissimo allo scritto ovviamente se uno esce con quindici trentesimi dallo scritto non può pensare di vendere trenta che altro dire? prova scritta, prova orale io vi consiglio caldamente di abbinare le due prove l'ideale sarebbe fare un giorno stesso scritto orale per esperienze passate ho visto che gli studenti mai accettano di fare questa cosa l'ho scritto la mattina e il pomeriggio l'orale vi ripeto, io vi invito caldamente a fare insieme scritto e orale nello stesso appello però siccome oramai siete grandi, maturi quindi lascio anche a voi un pochino quello che volete fare se superate lo scritto io normalmente vi mantengo il voto anche se decidete di rimandare l'orale all'appello successivo e vediamo di creare strasci di Biro attraverso l'anno perché poi diventa una cosa abbastanza difficile ok? questo è per me quella che è la presentazione del corso ci sono domande ragazzi? allora l'orario va bene a tutti? ci sono richieste, notifiche per ormai stiamo al pomeriggio penso che sia abbastanza comodo per tutti normalmente io faccio tre quarti d'ora di lezione e un quarto d'ora di pausa i nostri moduli da un'ora dovete intenderli in questo modo tre quarti d'ora di lezione e un quarto d'ora pausa ditemi voi se per quanto riguarda la prima ora vogliamo essere puntuali lì cioè iniziare alle tre poi se qualche motivo mensa eccetera preferite iniziare alle tre quarti così ci strutturiamo iniziamo alle quindici e bene o male poi verso le quindici e quarantacinque facciamo la prima cosa come? quindi si finisce prima delle cinque diciamo vediamo insomma, poi non siamo così ricci però magari si cerchiamo anche di un po' in anticipo visto che c'è l'esigenza delle cinque quando facciamo tre ore c'è l'esigenza delle sei bisogna correre a prendere il treno delle cinque dieci o delle sei dieci quindi ok allora ho visto ragazzi che in base alle orarie i vari calendari eccetera impegni noi salteremo diverse lezioni già la settimana prossima ne saltiamo due poi ne salteremo un'altra perché io sono in seguito di laurea insomma ci sono... cerchiamo di iniziare con un certo ritmo in maniera che ci avvantaggiamo e non rischiamo di trovarci lunghi poi su quelli che è lungo su quello che è lavorato del corso quindi iniziamo da subito con quella parte di fondamenti facciamo un passo indietro, tubo macchine voi vi avete raccontato questo tema nel corso di macchine facciamo un breve ricordo cos'è una macchina? per noi una macchina è un qualsiasi sistema in cui c'è una conversione di energia in lavoro meccanico fondamentalmente lavoro meccanico significa ci deve essere una forza applicata su una parte mobile forza per spostamento appunto ci dà il lavoro che in qualche modo verrà trasmesso diciamo così verso l'interno o verso l'esterno della macchina stessa in particolare noi ci occupiamo di macchine a fluido dove cioè la conversione di energia primaria del lavoro e viceversa viene effettuata tramite l'eroluzione termofluidinamica di un fluido di lavoro la cui l'importanza per noi delle trasformazioni in termofluidinamiche che ricordate in particolare che distinguiamo tra macchine motrici e macchine operatrici una macchina per noi motrice se in qualche modo abbiamo un fluido di lavoro che ci mette a disposizione dell'energia tramite questo sistema noi questa energia la convertiamo nel lavoro mettendola o meglio la mettiamo a disposizione alla flange della macchina come un flusso di lavoro come una potenza meccanica che viene messa a disposizione di un utilizzatore viceversa la finalità della macchina operatrice è l'inverso prendiamo una potenza meccanica disponibile alla flange della macchina in qualche modo tramite la macchina utilizzeremo questa potenza meccanica questo lavoro disponibile per aumentare quella che è l'energia posseduta insieme al flusso di lavoro ricorderete al corso di macchine tutta una serie di classificazioni ad esempio in base al tipo di flusso di lavoro distinguiamo tra macchine idrauliche e macchine termiche la macchina idraulica è quando la nostra macchina tratta un fluido che può essere ritenuto incomprimibile diciamo un liquido in realtà noi avremo a che fare sempre con variazioni di pressioni quindi il discorso della comprimibilità e della comprimibilità la dobbiamo fare in base a quanto si modifichi la densità del fluido sulla base delle variazioni di pressione che vengono indotte insieme al fluido stesso da questo ricorderete che più che fluidi comprimibili e incomprimibili noi dobbiamo distinguere che cosa? e flussi comprimibili dagli flussi dai flussi incomprimibili, giusto? vi ricordate qual è la discriminante? quando è che un flusso può essere ritenuto comprimibile e quando è che invece cioè può essere approssimato come incomprimibile e quando è che invece un flusso non possiamo trascurare le variazioni di densità che si associano alle variazioni di pressione in base al numero di macch fondamentalmente in genere si prende come discriminante 0,3 sotto lo 0,3 avremo a che fare con flussi dove appunto possiamo trascurare le variazioni di densità sopra invece ne dovremo tenere conto normalmente se abbiamo a che fare con turbine eoliche trattiamo aria ma possiamo bellamente trascurare la variazione di densità dell'aria e quindi considerare la macchina veramente come se fosse una macchina idraulica ci sono dei casi in cui invece trattiamo acqua ma non possiamo trascurare il fatto che l'acqua è comunque fluido comprimibile e quindi dovremo considerare la comprimibilità anche in quel caso dal corso di termine fluido dinamica che avete fatto lo scorso semestre se richiamate veramente le navi Stox e le equazioni che governano il flusso ricorderete che c'è una differenza molto importante tra fluidi comprimibili nel caso in cui dobbiamo ritenere il fluido comprimibile e nel caso in cui lo possiamo approssimare con l'incomprimibile addirittura non dilatabile quindi un fluido effettivamente a proprietà costanti rho uguale costante cioè le equazioni di conservazione del momento della quantità di moto si disaccoppiano dall'equazione dell'energia i due problemi possono essere risolti in maniera indipendente e questo semplifica molto lo studio dell'efflusso in generale delle turbomacchine idrauliche in particolare proprio perché non c'è il problema appunto di risolvere in contemporanea il problema termico con il problema meccanico con la risoluzione delle equazioni della conservazione della quantità di moto quindi in generale possiamo dire che nelle macchine idrauliche a meno delle degradazioni ovviamente noi avremo sempre conversioni di energia meccanica in altre forme di energia meccanica nelle macchine termiche invece avremo a che fare con trasformazioni di energia meccanica in energia termica nel senso che dovremmo chiamare continuamente in conto anche quella che è l'energia interna del fluido quindi l'energia interna o l'energia interna come vedete sempre nell'ambito delle articologie abbiamo detto che se vogliamo avere scambio di lavoro ci devono essere delle parti mobili il fluido ovviamente deve interagire con queste parti mobili quindi avete distinto e continuiamo a distinguere tra macchine rotative e macchine alternative a seconda che queste parti mobili appunto siano caratterizzate da un moto rettilineo alternato il pistone è un moto di riconosione interna oppure siano solidali con un organo caratterizzato da un moto rototolico queste saranno per noi le macchine rotative distinzione ancora tipologia distinto le macchine volumetriche dalle macchine dinamiche macchine volumetriche operano in maniera periodica su volumi successivi diffusi ripensate appunto ai motori a combustione interna basati sul suono di un pistone quella è una macchina periodica volumetrica perchè c'è un momento che aspira aria dopo di che si chiude la valvola abbiamo un sistema chiuso dove abbiamo il nostro fluido di lavoro che interagisce con il pistone c'è una porzione di fluido che scambia lavoro con la macchina dopo di che effettuato lo scambio di lavoro la compressione di espansione quello che sarà il ciclo di funzionamento si apre la valvola di scarico viene scaricato questo fluido di lavoro e ne verrà aspirato altro appunto una macchina volumetrica perchè durante il ciclo c'è un ciclo di funzionamento in realtà della macchina stessa che opera su porzioni definite di fluido che tratta di volta in volta le macchine dinamiche invece le cosiddette turbomacchine agiscono su volumi continui di fluido effettivamente la turbomacchina è un sistema aperto dove c'è una sezione di ingresso una sezione di uscita e lì vediamo sempre un passaggio di massa in maniera continua che andrà poi questo flusso andrà ad interagire con le parti mobili che caratterizzeranno la macchina stessa scambiando lavoro con essa noi in questo corso ripeto ci occuperemo fondamentalmente di turbomacchina quindi di quest'ultima categoria una grossa distinzione che caratterizza che può essere fatta tra le due macchine riguarda il fatto che appunto pensate al motore del combustione interno aspira e racchiude all'interno del cilindro una certa massa dopodiché questa interagisce con un pistone che si sta muovendo lo comprimerà o farà espandere questo fluido questa massa è ferma all'interno di quello che è il volume di controllo che possiamo considerare è ferma all'interno del cilindro stando ferma c'è il tempo di farle scambiare calore con le pareti del cilindro stesso nessun sistema che abbia valido perfetto nel caso di una macchina volumetica in genere gli scambi di calore devono essere ben considerati non possono essere trascurati nel caso della macchina dinamica invece nella turbomacchina il flusso attraversa in maniera continuativa la macchina e si muove all'interno di essa con una certa velocità in genere anche piuttosto sostenuta normalmente se andiamo a vedere il tragitto fatto da ogni praticella di fluido il suo tempo di residenza all'interno della macchina è piccolo e trascurabile rispetto al tempo che è necessario per far avvenire scambi di calore che siano significativi questo è il motivo per cui già nel corso di macchine voi avete fatto sempre l'ipotesi macchina turbomacchina uguale sistema diabatico trascuro gli scambi di calore in realtà non è che non ci sono scambi di calore non c'è abbastanza tempo per farli avvenire in maniera significativa quindi sono trascurabili le quantità di calore scambiato tra fluido e parete della macchina rispetto invece a quelli che saranno gli scambi di lavoro che la macchina è stata progettata e realizzata quindi di fatti anche noi in questo corso a meno di casi molto particolari faremo sempre l'ipotesi di adiabaticità della trasformazione del fluido ok? deriva effettivamente da questa considerazione quindi in generale una qualsiasi macchina in particolare una turbomacchina può essere vista come un sistema aperto del quale possiamo definire un volume di controllo sicuramente ci saranno almeno due sezioni permeabili una per l'ingresso e una per l'uscita speriamo appunto fluire in maniera continuativa una certa portata attraverso questo volume di controllo che racchiude la nostra macchina o porzioni significative di esse, elementi di esse e su questo noi possiamo andare a scrivere l'equazione di bilancio o le equazioni generali che arreglano i processi del mondo di bilancio conservazione della massa, conservazione della quantità di moto, conservazione dell'energia partiamo dal bilancio di energia bilancio di energia perché il bilancio? perché non abbiamo a che fare che il fenomeno è un fenomeno che riguardi, tra virgolette, la produzione o la distruzione di energia per noi l'energia si conserva, al limite si converte da una forma in un'altra quindi se noi focalizziamo l'attenzione su un certo volume di controllo se l'energia che è contenuta all'interno di essa varia è perché se varia ci sarà uno squilibrio tra fossili di energia che vanno dall'ambiente verso l'interno del sistema e flussi di energia che viceversa il sistema cede all'ambiente stesso con quali sono i flussi di energia che dobbiamo considerare? dobbiamo considerare se il sistema è aperto ogni elementino di massa che entra all'interno del sistema porterà con sé la propria energia interna la indichiamo con U, minuscola, la grandezza specifica la propria energia potenziale G con Z specifica la propria energia cinetica dopodiché ci potrebbe essere un flusso di energia in modo calore la potenza termica che noi assumeremo positiva se è in ingresso rispetto al sistema ci potrebbero essere delle parti mobili e sicuramente ci saranno se trattiamo le turbomacchine all'interno del nostro volume di controllo attraverso il quale appunto si possono realizzare degli scambi di potenza meccanica e quindi ci saranno dei flussi in modo lavoro che noi riterremo positivi se il lavoro è in uscita dal sistema quindi è il sistema che fa un lavoro verso l'ambiente stesso mentre quello che abbiamo detto per l'ingresso vale per l'uscita c'è un elemento di massa di M2 che sta uscendo dal sistema esso porta con sé, si porta dietro in dote quella che è la sua energia specifica quindi una certa energia interna più una certa energia cinetica più una certa energia potenziale nello scrivere queste equazioni io sto già dando per scontato che stiamo trattando un sistema monodimensionale che molto spesso nella realtà noi potremo approssimare le sezioni di ingresso o meglio potremmo adottare le ipotesi di monodimensionalità per quanto riguarda la sezione di ingresso e la sezione di uscita dalle turbomacchine quindi riterremo sulla sezione del condotto la superficie permeabile attraverso il quale viene il passaggio di massa riterremo costanti velocità e proprietà del fluido quindi nell'andare a scrivere il bilancio di energia per il nostro volume di controllo ad un ingresso o in uscita nell'ipotesi 1D, nell'ipotesi di monodimensionalità del flusso di ingresso o in monodimensionalità del flusso in uscita se facciamo riferimento a un certo intervallo di tempo delta T la variazione di energia relativa al volume di controllo che stiamo studiando è data dal fatto che potrebbe entrare nel sistema una certa quantità di calore potrebbe uscire dal sistema una certa quantità di lavoro DL ceduta appunto perché ci sono delle parti mobili con cui il fluido scambia l'automa organica entra nel sistema una certa energia associata al fatto che c'è un elementino di massa dm1 che sta entrando nel nostro sistema che si porta in dote energia cinetica, energia interna, energia pulenziale sta uscendo dal sistema l'analogo per quanto riguarda l'elementino di massa dm2 che esce dal sistema attraverso la sezione permeabile numero 1 dopodiché dobbiamo anche considerare che il lavoro scambiato dal sistema con l'ambiente esterno non è solo quello tecnico ma se ci sono delle superfici permeate attraverso il quale c'è passaggio di massa dobbiamo andare a considerare anche il cosiddetto lavoro di pulsione cioè per fare entrare o uscire massa dal sistema qualcuno deve compiere un certo lavoro di fatto di fatto non c'è qualcosa che si è tolto questo di fatto nel mio intervallo di tempo mi sto prendendo per osservare il fenomeno io vorrei entrare all'interno del mio volume di controllo un certo elementino di massa dm1 che compie quindi avrà lungo quella che è l'ascissa collineare del condotto che prende per riferimento la lunghezza di x1 avrà quindi questo elementino di massa caratterizzato da un volume del 1 pari alla superficie del condotto a con 1 per dx con 1 ora però devo considerare che qui per entrare all'interno del sistema bisogna vincere quella che è la resistenza della pressione p con 1 quindi deve essere vinta la risultante delle lezioni della pressione f con 1 pari a p con 1 per a con 1 in altre parole se voglio spingere dentro tutto il mio elementino di massa lungo dx con 1 deve essere esteso un lavoro che chiameremo un lavoro di pulsione o meglio che avete già chiamato un lavoro di pulsione pari alla forza applicata sullo spostamento ossia f con 1 per dx con 1 ossia a con 1 per la superficie a con 1 e dx con 1 p con 1 a con 1 per dx con 1 che stiamo considerando che sta entrando nel nostro volume di controllo ci ricordiamo la definizione di volume specifico il volume specifico è il rapporto tra il volume occupato da una certa massa e della massa stessa quindi questo lo possiamo descrivere come p con 1 per u con 1 per la massa di m1 che sta entrando all'interno del sistema questo è il lavoro di pulsione che deve essere speso per far entrare questo elemento di massa all'interno del nostro volume di controllo in maniera analoga possiamo farci conti per quanto riguarda l'uscita la sezione di uscita otterremo un termine P2 v2 per dm2 ora questo lavoro chi lo fa? nel bilancio che stiamo scrivendo questo è in ingresso rispetto al nostro sistema o in uscita? inizio ragazzi non siamo nell'esame eh noi quando scriviamo un bilancio di energia alla fine lasciamo stare le regole dei segni la cosa fondamentale è che va con il segno più tutto ciò che sta entrando qualsiasi contributo energetico che sta entrando nel mio polma di controllo nel mio sistema andrà con il segno meno tutto ciò che sta uscendo questo è un lavoro che è fatto dall'ambiente dall'esterno sul sistema o dal sistema sull'ambiente esterno abbiamo due versioni dal sistema dall'ambiente verso il sistema cioè l'ambiente esterno che sta spingendo quindi abbiamo una quantità di lavoro che in realtà è in ingresso al nostro sistema quindi nel nostro bilancio questo andrà con il segno più viceversa quando vogliamo far uscire massa è il sistema che dovrà compiere un lavoro contro la resistenza dell'ambiente esterno lui che sta facendo un lavoro andrà con il segno meno rispettando poi la regola dei segni che abbiamo portato fisicamente lo potete anche vedere in questo modo dimentichiamoci che qua giù c'è un scifre guardiamo soltanto questa porzione che io ho qui a disegnare quando questo elementino di massa che sta entrando lo potreste anche vedere come un pistone che in realtà sta comprimendo tutto quanto il sistema perché appunto per riceverlo il mio sistema per ricevere questo elementino di massa in qualche modo deve comprimersi deve essere compresso dall'esterno quindi è come se avessi a che fare come un cilindro dove c'è un pistone che si abbassa in quel caso è l'ambiente che sta facendo un lavoro sul sistema e voi considerate il contributo come positivo quando invece l'elementino esce è come se il corsoio nel vostro sistema chiuso cui siete ben abituali si sta alzando e il vostro sistema si espande e quindi sta compiendo il lavoro verso l'esterno e voi quel contributo lo segnate nel bilancio di energia comunicativo che appunto è il vostro sistema che sta compiendo un lavoro che sta compiendo il lavoro quindi il nostro bilancio di energia completo se consideriamo un modo dimensionale il flusso in ingresso e in uscita di queste due sezioni permeabili che io ho qualizzato per il volume di controllo si scrive in questo modo perché questa è la quantità di calore scambiata e questo è quello che avete chiamato lavoro di elica scambiato cioè il lavoro scambiato dal fluio con qualche parte mobile che è contenuta all'interno nel nostro sistema di controllo poi ci sono i termini convettivi che portano dentro o fuori una certa quantità di energia nelle sue tre forme cinetica, interna, potenziale e poi c'è il lavoro di pulsione che dobbiamo considerare lavoro di pulsione che appunto poi andiamo a specificare in questo modo P per V per l'elementione di massa perché ci fa il gioco specificarlo in questo modo? perché a questo punto raggiungiamo i vari termini mettiamo in evidenza la massa di M1 che sta entrando mettiamo in evidenza la massa di M2 che sta uscendo quindi questo prodotto P1 per V1 se ne va insieme i termini 1 con 1 più C1 quadro mezzi più GZ1 in maniera analoga per quanto riguarda il prodotto pressione volume di uscita a questo punto ci ricordiamo che in termodinamica definiamo in TARPIA la somma tra l'energia interna e il prodotto pressione volume specifico TARPIA anch'essa ha una grandezza di stato come l'energia interna riscriviamo in maniera un po' più comoda il bilancio di energia in questa forma la variazione di energia associata che riguarda il mio sistema la variazione di energia del sistema è data da quanto calore sta entrando quanto lavoro tecnico ed elica noi lo chiameremo semplicemente lavoro dopo un po' d'ora in po' sta uscendo dai flussi convettivi dove non compare più l'energia interna ma comparirà direttamente la grandezza in TARPIA in questo modo teniamo conto implicitamente di quello che è il lavoro di pulsione che d'ora in poi non vedremo in più trattando i sistemi aperti basta utilizzare questa sorta di schieno TARPIA sostituire l'energia interna o meglio questa somma con questa grandezza di erodinamica richiamante ora nell'ipotesi che abbiamo fatto appunto di poter ritenere monodimensionale il flusso alla sezione 1 alla sezione 2 questo è un bilancio di energia valido qualunque siano le condizioni il sistema potrebbe essere un sistema transitorio è il bilancio di energia da utilizzare la forma da utilizzare se vogliamo studiare il transitorio di una macchina o di un elemento di una macchina dove ricordate sempre primo membro dovete considerare l'energia interna non l'entalbio nel membro c'è la variazione di energia interna al sistema al secondo membro nei flussi convertivi di energia c'è l'entalbio ora noi in genere studieremo il funzionamento stazionale della macchina perché in quello che è il progetto preliminare appunto si fa riferimento alla sua condizione di funzionamento a regime quindi condizioni stazionali significa che il volume di controllo non varierà l'energia interna per il tempo significa che tutto ciò che entra non varia neanche la massa quindi tutto ciò che entra in termini di massa deve anche uscire da m1 deve essere uguale a da m2 la variazione di energia interna al volume di controllo al mio sistema deve essere pari a 0 banalmente vedo l'iscrive giusto per comunità non c'è lì ma l'incerino questa diventa la nostra scrittura dell'equazione dell'energia sistema stazionario quindi deve essere uscita monodimensionale andiamo a dividere per dm passiamo alle grandezze specifiche qui quindi l'unità di misura è un joule calore lavoro e per gli altri termini dividiamo tutto per dm passiamo alle grandezze specifiche riferite all'unità di massa in questo caso all'unità di massa che sta attraversando il sistema partiamo dall'altro membro otteniamo Q meno R pari all'H2 ok ok bilancio di prima legge sistema con ingresso e uscita in condizione stazionaria valide le condizioni di monodimensionalità alla sezione di ingresso e uscita e uscita e uscita e uscita facciamo un quarto di pausa ragazzi poi abbiamo un'altra mezz'ora e poi veloce ci fermiamo ci andiamo dalle 4 a un quarto